bella ragazzi qui alex z e oggi siamo in un nuovo video di gt online ho deciso di sfidare bosco di 96 in un deep match per vedere chi è il più forte tra i due ne vedete delle belle secondo voi chi vincerà e adesso ragazzi vi lascio al video vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi al canale e condividete il video ed entrate nella curva assolutamente perché a 200 iscritti come avevo promesso facciamo il raduno a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.